Un'altra anziana truffata nell'Aretino, l'ultimo episodio in ordine di tempo, è accaduto l'11 dicembre all'Evane in Valdarno. È stata la vicina di casa a convincere la vittima a rivolgersi alle forze dell'ordine e lanciare l'allarme e i truffatori sono stati arrestati. A condurre le indagini sono stati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. L'anziana era stata truffata con una delle truffe più frequenti, i finti carabinieri. Uno di loro l'ha contattata al telefono dicendole che il figlio aveva investito una persona che per evitare conseguenze gravi avrebbe dovuto pagare l'avvocato, al quale a sua volta il figlio aveva già anticipato, secondo i truffatori, 3.500 euro. Cifra però insufficiente, così la signora era stata invitata a recuperare il denaro custodito in casa e altri oggetti in oro. La donna, in preda al panico, ha affidato 4.300 euro al truffatore, poco dopo però si è accorta del raggiro e ha sporto denuncia. I carabinieri sono dunque riusciti, grazie alla descrizione e alle telecamere di videosorveglianza che avevano immortalato la targa, a intercettare l'auto a bordo della quale erano fuggiti i truffatori, un 20enne, un 22enne e un 16enne. I primi due sono stati arrestati, il 16enne è stato denunciato e affidato ai genitori. La rifurtiva è stata recuperata.